Vintage all'arsenale, fino a domani creatività in moda dei primi 900, esempi di come riciclare possa creare vere e proprie opere d'arte. Parliamo adesso del vintage che conquista i veronesi, da ieri sera a domani all'arsenale c'è il vintage market, una miriade di creazioni, oggetti di arredamento, abiti, bigiotteria, accessoria. All'arsenale il vintage market ti accoglie così. Quando poi entri l'atmosfera ti cattura, un'atmosfera ad altri tempi che fa tendenza, vintage è bello ed è bello curiosare e vedere come la fantasia e la creatività possono contribuire a creare piccoli grandi capolavori, come questi cappelli indossanti, dice la creatrice, dalle donne che vogliono valorizzare la propria personalità. Se avete scarpe sporche al vintage market trovate anche chi ve le pulisce. Sono un calzolaio di Verona e mi diverto a pulire le scarpe. È tutto, non c'è altro per questa edizione, a me non rimane che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti.